ragazzi ci tengo a presentarvi troppo simonciro mio amico mio fratello lui mio fratellone grande frate che vogliamo dire ai miei amici e non ci diamo un nuovo peccato capo di milano e frefe e lo spazzolino no vabbè salutiamo a fefe ciao a fefe il capo dello spazzolino la più simpatica è anita anita molto molto più simpatica e molto più brava io la stimo tanto anita grande si ma ascolta ma il gatto di anita è pericoloso che devo fare e lo devi graffiare lo devo graffiare ti graffio per tu sto arrivando saluta ciao anita così tanto devi trattare bene il mio fratellone raga ma non è che tutto quello che io devo fare devo sempre pensare oh mio dio che cosa può succedere io sono un uomo libero uno secondo io con mirko ci vado d'accordo adesso io con perla ci vado d'accordo adesso non ho detto niente di che quindi ma infatti ragazzi soliti triggerati federico non ha detto niente di che va d'accordo con tutti vi lascio così con un mega bacione ciao